Nello scorso episodio di Scottish Ninja Wow, raggio di sole, sembri un po' a pezzi stamattina Oh, credo di essermi fratturato il cervello Dov'è la mia medicina post-sbornia? Ti hanno dato la medicina sbagliata, amico Cari bastardi, sono passati sei mesi da quando vi ho spediti in America e temo di avervi messi tutti in grave pericolo Non posso entrare nei dettagli adesso perché potrebbero esserci occhi indiscreti quindi verrò a trovare voi pidocchi il mese prossimo per confermare i miei sospetti che siete solo un mucchio di inutili cazzoni che potrebbero essere in grave pericolo con affetto, maestro ubriacone Oh, caffin, la clan Venite subito qui, è un'emergenza Il maestro ubriacone sta arrivando Il diavolo, il diavolo sta arrivando, il cielo ci aiuti Il diavolo Cosa? Perché? Se ho letto bene, teme di averci messi in pericolo mandandoci in America Beh, non è dolce, ha un cuore d'oro Dolce? Cuore? Bah, ancora non ha fiducia in noi Non l'ha mai avuta E ora sta venendo qui Quando? Questa è di un mese fa Quindi da un momento all'altro Oh, Gesù Se siamo fortunati l'aereo si schianterà e lui morirà Fin Non dire certe orribili cose Tu non lo conosci bene quanto me Rilassati Dobbiamo mettere questo posto in ordine per dimostrare al maestro ubriacone Che sappiamo cavarcela da soli E sarà fiero di noi Renderlo fiero? Sarebbe più facile addestrare un unicorno a cagare arcobaleni Se non ti ricordi è stato lui il co***e che ci ha cacciati via Non ci ha cacciati Voleva solo che ci trovassimo da noi in nostro destino Oh, ma per favore Voleva solo tenere tutto l'alcol per sé Vada, come parli Devi sempre portare rispetto al maestro L'unica cosa che devo a quell'astuto bastardo È un bel calcio nelle palle No, non c'è tempo per questo Potrebbe arrivare da un momento all'altro L'Aklan ha ragione Abbiamo cose ben più importanti da fare Ah sì? Come sbarrare la porta? Comprerò la colazione preferita del maestro ubriacone Al negozio di liquori Beh, di solito gli piace accompagnarlo con un po' di Huggies Quindi ora mi toccherà andare a cercarlo Allora è deciso Ognuno ha il suo compito E io che faccio? Oh, ehm Beh, è pericoloso là fuori Quindi è meglio che vada da solo Magari potresti pulire un po' la casa Penso tu possa farcela Sei un bravo ragazzo Wow, amico Sei decisamente vittima di un'effemminata manifestazione Di eccessiva iperprotezione fraterna Pesante No, L'Aklan Sei troppo debole per arrampicarti su quest'albero Vai, vai, vai Arriva Ok Ma che vuoi? Fai qua Questo gioco è troppo violento per uno della tua età Forse tra qualche anno Questi sgherri sono troppo grossi Ci pensiamo noi Ciao ragazzi Se il video vi è piaciuto Come al solito Fatecelo sapere qui sotto Nei commenti Nei commenti E ora Passiamo ai salumi Allora Io che sono Ash Ci tenevo a salutare Lorenzo Cercello Ciao Lorenzo Quando vuoi Vieni con me a catturare Tutti i Pokémon 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 Allora Io che sono ditto Ci tenevo a salutare Gianluca Mazzanobile Ciao Gianluca Quando vuoi Vieni alla pensione A depositare I tuoi Pokémon Per fare le uova Con me Oh hey Qui è il buon vecchio Carl Che parla Quanto tempo E ci tenevo a salutare Antonio088 ProGamer Ciao Antonio Se vuoi partecipare Al mio drago di carne Sei il benvenuto Un salutone Anche da Watson Io invece Volevo salutare Rob2000 Coco Ciao Rob Se vuoi venire A fumare il bong Con me Sherlock Sei il benvenuto